Salve a tutti, mi chiamo Michela, sborgo un lavoro di tipo impiegatizio. Avevo la necessità di vendere una casa di famiglia. Dopo varie ricerche mi sono affidata all'agenzia Nama Real Estate in quanto aveva colpito la mia attenzione anche tramite degli annunci che avevo visto online. Li ho contattati e ci siamo poi conosciuti personalmente. Ho conosciuto Antonio che è venuto a casa per fare un sopralluogo, per visitare l'immobile. L'impressione che avevo avuto vedendolo su internet è stata ampiamente riconfermata. Ho affidato l'incarico in esclusiva. Dopo pochi mesi l'immobile è stato venduto senza intoppi, senza nessun tipo di problema. L'agenzia mi ha sempre seguito anche per la preparazione della documentazione necessaria e non mi sono mai sentita abbandonata. Quindi ecco una grande professionalità la consiglierei veramente a tutti.